Tenetevi forte perché oggi mega unboxing di Panasonic e voglio ringraziare i ragazzi di Panasonic per averci offerto questa possibilità, la possibilità di testare alcuni dei loro prodotti per voi direttamente qui sul mio canale. Ciao a tutti amici ben ritrovati, io sono Cesare e come sapete mi occupo di fotografia e oggi sono qui per fare uno dei miei unboxing strani, però a differenza del solito questa volta facciamo un unboxing vero, per cui sono emozionato io per primo. Come potete vedere abbiamo qui uno scatolone che è mega giga, quindi adesso andiamo ad aprirlo e andiamo a vedere che cosa c'è qui dentro. Vi anticipo che questa è una collaborazione con Panasonic e quindi mi è stato mandato del materiale in maniera tale che io possa testarlo e farvi una recensione sul campo. Come potete immaginare questo è il mio primo unboxing vero in cui spacchetto veramente una scatola e quindi sono molto più nervoso di quello che sembra, perché io sono allergico alle lame. Adesso vediamo se riesco ad aprirlo senza distruggere i documenti di trasporto che vorrei effettivamente conservare. Ecco guardate facciamo così, i documenti li tiriamo fuori così adesso posso distruggere, adesso posso distruggere la confezione senza remora alcuna. Molto bene, eccoci qui, adesso andiamo ad aprire e andiamo a vedere che cosa c'è di bello dentro questa scatola. Allora, innanzitutto cartone. Abbiamo un sacco di cartone e io qui già intravedo le scatole che ci sono qua sotto, c'è un sacco di roba, non so da dove cominciare. Sapete una cosa, siccome non so da dove cominciare andrò completamente a caso. La prima cosa che tiriamo fuori è il Lumix SR1635, un'ottica che sapevo che mi stavano mandando ed è forse una di quelle che sono più curioso di sperimentare, perché è una delle mie lunghezze focali preferite. Io normalmente scatto con il 16-35 o col 14-35, quindi diciamo che qui giocando in casa sono curioso di vedere come performa questa lente perché è un pochettino l'omologo di quello che io utilizzo di solito. Ora passiamo a qualcosa di più piccolo. Qui abbiamo il Lumix G Vario 45-150. Ora, sono curioso perché rispetto alle altre scatole che sono molto voluminose, questa qui è piccolina e quindi diciamo che mi incuriosisce. Andiamo avanti e vediamo un po' che cos'altro c'è qui dentro. Io continuo a procedere completamente a caso. Qui abbiamo 24-70 f2.8. Anche qui io gioco in casa perché anche questa è una delle ottiche, una delle lunghezze focali con cui mi trovo meglio, una di quelle che uso più spesso, quindi anche questa sono impaziente di usarla. Devo dire ha un bel peso, quindi mi aspetto una lente con una bella costruzione. Sono impaziente di andare a testarla sul campo. Fatemi sapere in un commento qual è di queste lenti quella che siete più curiosi di vedere. Ok, ma siamo arrivati al fondo della scatola e quindi tiriamo fuori quella che forse è la scatola più grande. Come potete vedere qui abbiamo la Lumix S5-2X. Una macchina che sono impaziente di testare sul campo perché ne ho sentito parlare, ma questa è la prima volta che riesco effettivamente a tenerne in mano una. Devo dire il peso mi sembra estremamente soddisfacente, quindi non vedo l'ora di tenerla in mano e di darvi le mie impressioni sul grip, sull'ergonomia, sulla costruzione e perché no anche sulla qualità d'immagine. Adesso andiamo a spostare questo scatolone. Bene, sapete una cosa? Voglio aprirla subito perché sono troppo curioso di vedere che cosa c'è qui dentro. Allora, libretto di istruzioni, plastichine varie ed ecco qua, ecco qua. Allora, scatola chiusa. Posso già dirvi una cosa, il peso è molto soddisfacente perché mi lascia intuire una bella costruzione. Io una macchina che pesa così tanto me la immagino fatta di qualcosa che non sia plastica. Vado a scoprire. E allora, ragazzi, la camera è questa. Probabilmente molti la conosceranno già. Io è la prima volta che ne tengo in mano una. Posso dirvi, prima sensazione, molto buona. Questa è una costruzione sicuramente un po', dal mio punto di vista, un po' retro, un po' vintage. Non so se riuscite a vederla bene. Si tratta di una macchina con una progettazione che a me fa venire in mente la yashica di mio nonno, per esempio. Quindi una costruzione, secondo me, tradizionale. Devo dire l'ergonomia è molto buona, un po' spigolosa in certe parti, però non dà fastidio, non crea problemi e comunque sta in mano un gran bene. Quindi da quel punto di vista direi che non ci sono problemi. Questo design total black è molto accattivante. Il peso, vi confermo, è molto soddisfacente perché questa pesa di più della maggior parte delle fotocamere che utilizzo abitualmente e per me è una soddisfazione. Inoltre, dimensioni del grip assolutamente apprezzabili perché il mignolo non scivola fuori. Come potete vedere, sta perfettamente all'interno del corpo macchina. Quindi ha sensazione assolutamente gradevole. Vabbè, ma a questo punto sarebbe crudele non farvi vedere cosa c'è anche dentro nelle altre scatole, non trovate? E io non sono così cattivo. Per cui adesso andiamo a vedere che cosa c'è qui dentro. E questo è il 24-70. Allora, io lo vado a estrarre. Oh, ma c'è ancora della roba qui dentro. C'è ancora qualcosa nella scatola. Quindi questo non è tutto il contenuto. C'è dell'altra roba. Ci sarà, non lo so, forse un adattatore, qualcosa. Dopo guardo. Però prima... Video molto ASMR, come al solito. No, sono impaziente di dare un'occhiata a questo perché... Mamma mia, ragazzi! È gigantesco! Questo è un 24-70 con una costruzione bellissima. È enorme. Dà una soddisfazione immensa tenerlo in mano. E... metallo, quindi assolutamente soddisfacente. Devo dire, le ghiere molto molto belle. La costruzione sembra molto bella. Vedete il frontale. Qui c'è la sua S della monta. E quindi io mi aspetto che sia pienamente in linea con il design un po' retro. Infatti qui abbiamo delle finiture. Io sento freddo, quindi questo è metallo, non è plastica. Mi aspetto che il vetro sia all'altezza di questo feeling un po' retro. Sono veramente impaziente di testarlo e farvi vedere che cosa ne viene fuori. Bene, qualcuno l'avrà già indovinato. Adesso andiamo ad aprire il 16-35. Se avete indovinato, fatemi sapere in un commento come avete fatto a indovinare che mancava solo questo. Andiamo a rimuovere. Ok, qui dentro c'è della roba. Qui dentro ci sarà, non lo so, probabilmente un paraluce o qualcosa del genere. Ma io sento che la maggior parte del peso è ancora nella scatola. Quindi continuo a scavare. Andiamo a vedere. Eccoci qua. Allora, 16-35. Di nuovo con la sua letterina S. E anche qui, stessa identica costruzione. Quindi, secondo me, è bello, soddisfacente. Ha un bel peso, sembra ben bilanciato. Anche qui io sento freddo, per cui ci sono le ghiere che sembrano... Sì, le ghiere sono di gommino con un bel grip, però il resto non è plastica. Quindi anche qui abbiamo una bella costruzione. Questo qui è il suo frontale. Devo dire che, guardando il 24-70, me lo aspettavo più grosso, eh. Me lo sarei aspettato più grosso anche questo. Certified by Leica. Ragazzi, sono stracurioso di provare queste ottiche, perché dalla costruzione l'impressione che fanno è veramente top. Nei prossimi giorni andrò a montarle via via sopra questo corpo macchina e andremo a vedere come si comportano. Quindi quello che potete aspettarvi è una recensione completa del corpo macchina e di queste ottiche. Se non volete rischiare di perdervi questo e altri preziosi contenuti, il mio consiglio è quello di iscrivervi subito al canale cliccando il bottone qui sotto. Ringraziamo nuovamente il team di Panasonic per avermi dato la possibilità di fare questo unboxing per voi. Lasciate un like a questo video per ringraziare i ragazzi di Panasonic. Rimanete sintonizzati per tutte le novità e io e il 1635 vi diamo appuntamento al prossimo video. Rimanete sintonizzati per tutte le novità e io e il 1635 vi diamo appuntamento al prossimo video.